È morta a 76 anni a causa di un arresto cardiaco Luisa Beltrame, storica conduttrice Rai. La Beltrame si trasferì a New York da Maniago, in provincia di Pordenone, suo paese natale. Fu proprio dalla grande mela che iniziò a lavorare per la Rai, che trasmetteva programmi per il Nord America. Divenne poi celebre per il suo programma di cucina che la rese un personaggio. Per questo Luisa può essere ricordata come la pioniera di un genere televisivo, il cooking show, che avrebbe occupato i palinsesti nella tv del futuro. Grazie.